Vai! Va bene, va un po' avanti, morcodio, c'hai i cani, chiede al culo, vai più avanti! Oh! 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 oh clemente sta registrando non c'è un puzzante rosso non si fermano io poi peso 20 grammi non si fermano non si fermano perché dobbiamo andare col freno di lato non si fermano Alberto non si vede se sta registrando? Alberto guarda se sta registrando guarda ora spengo provo a spregnere guarda se sta registrando? guarda se sta registrando? guarda se sta registrando? guarda se sta registrando?